ben ritrovati con questa nuova presentazione video in questo momento vi presentiamo una produzione in particolar modo un arredo di giovane battista moroni e si tratta di un emanista che in realtà si firma nella maggior parte dei casi come gbm con un suo monogramma fondamentalmente è stato grazie alla scoperta di una suite che aveva due comò dove uno era firmato completamente giovane battista maroni e l'altro gbm che ha permesso di sciogliere il dubbio su chi fosse questo ebanista sono diversi i mobili della sua produzione attribuiti e firmati sia elencati e ben descritti all'interno dei loro volumi da alvar gonzalez palacios che il primo che parla approfonditamente di questo ebanista che da giuseppe beretti che ha fatto questo saggio sui mobili realizzati da lui per agiaccio per la casa di buonaparte e che è molto interessante che ha anche delle vicende vi molto vicine connessa a questo arredo che stiamo vedendo questo è un mobile di grandissima qualità per questo ebanista che è considerato uno degli allievi di maggiolini il quale però però in realtà appartiene ad una bottega che ha una tradizione banista più antica il padre ha già la bottega giovane battista eredita questa bottega che lascerà poi anche i figli lui però ha un periodo di formazione come anche mafezzoli considerato certo ormai da parte di tutti gli studiosi nella bottega di maggiolini ne desume la capacità tecnica ne porta in bottega anche alcuni disegni che su alcuni mobili sono stati ritrovati che sono disegni riferibili alla bottega non sono trasposizioni puntuali ma derivate da quelli che sono i disegni della bottega maggiolini che apparentemente non sono in realtà mai usciti dalla bottega in questo caso il mobile ha un disegno architettonico sia di disegno proprio con queste grandi colonne con questi piedi con i gocciolatoi anche sul fianco abbiamo disegnate delle colonne architettoniche una trabiazione con greca ma anche la disposizione della partitura del fronte è una partitura molto complessa ancora di gusto molto luigi 16 dove vediamo delle riserve delle piccole mandorle tutte riempite arricchite da intarsi è evidentemente una realizzazione che deve essere stata pensata realizzata da un architetto anche perché sappiamo che a parte alcuni casi tipo i mobili di agiaccio e questo caso in particolare giovane battista maroni in realtà ha una platea di committenti di persone che ingaggiano la bottega che richiede una produzione molto più corrente molto più povera abbiamo diversi mobili firmati da lui che anche alcuni presenti cui mostra che in realtà denunciano una capacità di esecuzione ricca veloce ma di qualità molto più corrente che permetteva di costare costare evidentemente meno in questo caso evidente che c'è una presenza di una di un architetto che aiuta l'ebanista nella realizzazione dell'arredo realizzazione dell'arredo che in realtà lui firma qui in basso al centro del cassetto come gbm inventò disegnò e fece quindi in realtà lui si prende il merito sia dell'invenzione che del disegno e della realizzazione dell'arredo nell'inun'analisi attenta in realtà noi scopriamo che questa greca è una greca disegnata da giocondo albertolli come anche queste complesse raffigurazioni a candelabra con questi vasi e questi grifoni sono sempre realizzazioni da disegni di giocondo albertolli la realizzazione come dicevo fa pensare ad un architetto e l'ipotesi più attendibile è che il giovane battista maroni in bottega quando allievo con giuseppe maggiolini entri in contatto con agostino gerli e come per i mobili da jaccio ipotizza giuseppe veretti anche in questo caso ci sia una collaborazione stretta fra l'ornatista quindi gerli e giovan battista maroni questa cosa è anche in parte sostenuta dalla presenza di questo piano stupendo che è l'astronato con materiale in un alabastro in questo caso fiorito molto bello e molto raro che evidentemente materiale di scavo romano noi sappiamo da documentazioni da ricerche di che sono state fatte che agostino gerli intesseva rapporti commerciali con roma e anche per i mobili realizzati per il buona parte ci sono inserti in materiali di marmi antichi e di scavo quindi noi ci troviamo di fronte un ebanista che quando è supportato da una situazione come in questo caso c'è quindi da un architetto e da un disegnatore riesce a realizzare delle opere perché potremmo definirle opere in questo caso abbastanza unico di eccellente qualità aggiungo un particolare relativo a questo mobile curioso ma interessante è un mobile talmente singolare talmente ricco e di fascino che è considerato fin dall'ottocento in realtà un mobile di grande gusto internazionale tanto vero che finisce nelle sue vicende storiche a londra presso del uno di quelli che sono le botteghe dei più grossi antiquari dell'epoca di londra che sono williamson son and gilford e stampigliano sul cassetto la loro stampiglia di proprietà quindi un mobile che in realtà dalla fine dagli inizi dell'ottocento perché è datato 1804 si sposta dall'italia all'inghilterra e torna poi in italia e noi abbiamo la fortuna questo quest'oggi di presentarlo a tutti voi spero di avervi fatto vedere qualcosa di bello vi ringrazio e vi saluto per il prossimo appuntamento